Grazie. Grazie dell'invito. Certamente devo fare una premessa che molti di voi attenderanno giustamente, cioè che io non sono all'altezza del compito di affrontare un tema così rilevante. Chi sono io per? Questa risposta in realtà è una risposta che sembra modesta, in realtà è molto pretenziosa, perché è la risposta che Mosè, avete sentito la volta scorsa, ha dato alla chiamata del Signore a Roveto. Chi sono io per? Ora, io naturalmente non sono Mosè e Carlo Altini, per quanto sia persona stimabilissima, non è Dio, insomma questo è assodato. Però è vero che a livello infimo c'è una specie di analogia in questo senso, che dire chi sono io per e dire allora non vengo, significa non dar fiducia a chi chiama. Naturalmente lui non è Dio, io non sono Mosè, però a livello del petto infimo c'è la stessa dinamica, cioè se mi hanno chiamato ho fiducia in coloro che mi hanno chiamato. Purtroppo, a differenza di Mosè, io non avrò una ronne che mi aiuta, ma a somiglianza di Mosè balbetterò qualcosa. Sapete che Mosè è balbuziente e per questo ha l'aiuto di Aronne, cosa che io non ho qua. Ecco, quindi io cercherò di dire qualcuna di quelle cose che ho capito, o forse sto avviandomi a comprendere, di un tema certamente complesso e non solo complesso ma vastissimo. E quindi dirò solo alcune cose che corrispondono all'attese di chi vostre, probabilmente ognuno di voi ha delle attese diverse, perché Gesù è un nome che conosciamo da sempre. E conosciamo da sempre, ma non mi dilungo su questo tema, perché da principio non l'abbiamo conosciuto sui libri. Il nostro primo impatto su Gesù, noi che viviamo in questa società occidentale secolarizzata, ma non fino in fondo, lo abbiamo per altre vie. Non di quelle, non di quelle, non di quelle dello studio di libri su Gesù, vie che possono essere varie naturalmente, all'interno di una formazione religiosa in famiglia, nella parrocchia, ma anche per altre vie. Gesù è presente da tante parti. Ma noi qui siamo, diciamo, chiamati a vedere più da vicino un Gesù attraverso libri che parlano di Gesù e su Gesù. E qui noi abbiamo una prima riflessione da fare rispetto al titolo che mi è stato chiesto. Il titolo che mi è stato chiesto è appunto Gesù, messaggio evangelico e annuncio del legno. Ora, questo titolo è un titolo, come dire, comunicativo. Mette la comunicazione come riferimento base. Anzi, se noi pigliassimo la prima parte, cioè quella che indica questo tema, messaggio evangelico, noi abbiamo quasi una specie di comunicazione al quadrato. Perché? Eh, perché messaggio vuol dire, nel mondo d'oggi lo sappiamo benissimo, una comunicazione. Evangelo vuol dire buona notizia, torneremo su questo punto. E quindi è una specie di comunicazione al quadrato. Gioe Gesù è un comunicatore di una comunicazione. Allora, è stato scelto questo titolo. E non altri titoli possibili. Per esempio, Gesù, il Messia, crocifisso e risorto. Titolo del tutto plausibile. Ci sono naturalmente anche molte esemplificazioni che vanno in questo senso. Oppure Gesù, la parola o il figlio di Dio, incarnato per la salvezza degli uomini, degli esseri umani. Ma dico così, e uso questa formula, perché se noi pensiamo alla più consolidata struttura del dogma delle grandi chiese cristiane, che trova, diciamo, un suo riferimento più comune, anche più corposo, nel simbolo niceno-costantinopolitano, cioè nel credo che viene recitato per lo più nella Messa Cattolica, anche per intenderci. Noi vediamo che di Gesù si parla in questi altri modi. Si parla di Gesù addirittura prima della sua esistenza, terrena, credo non solo Signore Gesù Cristo, nato dal Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio generato e non creato, eccetera. Si parla di un Gesù che per noi uomini, linguaggio non inclusivo, è per la nostra salvezza discese dal cielo, si è incarnato. Si parla di Gesù, fu crucifisso, morì, fu sepolto, terzo giorno risorse, secondo le scritture, salì al cielo. Allora, quello che è posto come nostro titolo, qui non è per nulla ricordato. La predicazione di Gesù non è ricordata nel credo. Cioè è un altro tipo di approccio, con una fenditura che adesso dirò fa un attimo. Perché ho fatto questa considerazione, che non è soltanto introduttiva, è già sostanziale? Perché, recependo appunto questo titolo, e d'altra parte le parole introduttive di Altini l'hanno indicato, noi ci troviamo in un orizzonte che non è quello del dogma. Non partiamo dal dogma. Partiamo da altro. Perché il dogma, appunto, nella sua formulazione più classica, non ricorda Gesù come colui che fa il messaggio evangelico e annuncia il regno. non lo ricorda in un altro modo, lo celebra naturalmente in un altro modo. Ho detto che c'è una fenditura, una crepa, non so come dire, ed è quello che anche nella formulazione del concilio, appunto, dei grandi concili del IV secolo, si dice secondo le scritture. Ha un'allusione. Il terzo giorno secondo le scritture. c'è una specie di allusione a una dimensione che fino all'ora non era stata evocata e che troveremo. Troveremo. Ecco allora che voglio dire, in conclusione di questo primo pensiero, primo come contenuto, come preambolo del chi sono io, e voglio dire, appunto, noi siamo invitati a parlare di Gesù non partendo dal dogma. Ma partendo allora da dove? Ho già detto in qualche modo che Gesù è qui presentato sotto la luce di un comunicatore. ho usato questa parola che è corrente, ma insomma, il significato è quello che, di far sì che ci sia un annuncio, appunto, una notizia, una buona notizia. È colui che parla. Parla di che cosa? Parla, e troviamo questa espressione, del messaggio evangelico. Ora, cosa si intende per vangelo? Se io chiedo alla persona mediamente cos'è un vangelo, pensa a uno scritto. Se è un po' più, diciamo, familiare, dice, beh, ci sono molti scritti, ce ne sono quattro che sono considerati canonici, cioè che sono parte costitutiva nella Bibbia cristiana, Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Ce sono altri che vengono chiamati apocrifi perché non rientrano in questi quattro. Comunque è un genere letterario che ha delle caratteristiche. quale lo diremo subito, ma, insomma, questa è la prima risposta, io credo. Che cos'è il vangelo? Diciamo, è un genere letterale, un tipo di racconto. Ma questa connotazione, che è naturalmente corrispondente a una parte di contenuto, avviene soltanto verso la fine del secondo secolo. fino alla fine del secondo secolo questa parola c'era, ma non aveva questo significato. Quindi dovrebbe averne utile altri. Cioè, il significato, lo ripeto, di Vangelo come un testo scritto che parli di Gesù, è un significato pienamente attestato e che è diventato comune a partire dalla fine del secondo secolo, dopo Cristo, naturalmente. Quindi, diciamo, 150 anni dopo la morte di Gesù. Grosso modo, non è una datazione precisa. Prima, questi scritti sono di varia data, ma certamente tutti anteriori a questa data così avanzata della scadenza ultima del secondo secolo. Prima si chiamavano memorie apostoliche. Questo è molto importante, non tanto per l'espressione precisa, ma per l'area di significato che porta. Perché memorie? Perché per Gesù non esistono dei miti fondatori che esistono invece per altre figure all'origine né di movimenti religiose. Gesù non ha scritto nulla. Non ha scritto nulla. Quindi non c'è un mito, lo dico in senso proprio, non di è falso, non c'è un mito di Gesù scrittore. Voi avete sentito Mosè. Mosè è colui che ha scritto. Poi uno può dire dal punto di vista storico non le cose non stanno così, ma io ho usato l'espressione mito fondatore. Quindi per il mito fondatore Mosè è una scrittura. Cioè mette il messaggio in una forma scritta. per altre forme Gesù non è neanche un dettatore ripetitore recitatore. Questo lo sentirete la prossima volta. Muhammad non ha scritto nulla, anzi nella tradizione classica dell'Islam è analfabeta per ragioni che non affronta, che non è il mio tema, però ha recitato, Corano vuol dire recitazione in grosso modo, ha dettato e recitato un testo. Gesù non ha fatto neanche questo. Allora queste sono tipologie molto importanti di distinzione. Rispetto a Gesù comunicatore noi non abbiamo né la comunicazione scritta né la dettatura o recitazione di un testo. Ecco allora che noi abbiamo appunto questo problema laddove non c'è una forma di comunicazione diretta ci sono memorie memorie ovviamente di altri altri trasmettono delle memorie ma quando ci sono memorie lo sappiamo benissimo anche anche nell'esperienza quotidiana c'è una pluralità perché perché le memorie hanno delle dinamiche per cui le persone che vedono la stessa cosa le raccontano in modo diverso infatti qualunque esperienza qualunque psicologo lo direbbe no dall'esperienza quotidiana di fronte a uno stesso evento gli osservatori che devono comunicarlo e non hanno documenti lo comunicano in modo diverso è lo stesso evento quindi non l'opposto se fosse l'opposto uno direbbe vabbè le cose o uno o l'altro ma il più delle volte non sono opposte ma sono varianti pensate appunto un processo un processo le testimonianze di un processo allora adesso qui naturalmente nella situazione è solo analogica però c'è questo tipo di problema delle memorie e di pluralità di memorie perché Gesù non ha voluto diciamo voluto nel senso che non ha voglio ricostruire la volontà di Gesù non ha comunicato un testo né scrivendolo né dettandolo per questa ragione per tanto tempo relativamente parlando si intende tanto tempo non vuol dire il passo dei decenni non dei secoli si è ritenuto che la comunicazione orale fosse la più corrispondente a comunicare Gesù cosa che non è mai del tutto assente neanche fino adesso pur essendo tante cose successe tanti libri scritti faccio una piccola parentesi analogica si intende anche questo caso perché faccio un esempio della liturgia cattolica ma per comodità perché c'è la predica perché i testi non bastano i testi sono commentati predicati oralmente per dare un'interpretazione in quel momento in quella situazione il più possibile poi di là di come si predica questo è un altro discorso il più possibile calzante è un'analogia si intende allora appunto per tanto per tanto tempo diciamo così la trasmissione orale è considerata la più autentica all'inizio del secondo secolo papia di Gerapoli e dice o Gerapoli dice proprio così se noi vogliamo conoscere Gesù dobbiamo sentirle davvero dobbiamo seguire le tradizioni orali naturalmente perché sappiamo questo perché papia l'ha scritto perché se avesse solo detto questo non lo sapremmo però c'è questa dinamica questa dinamica è molto importante perché i generi letterari delle memorie apostoliche cominciano cronologicamente nella forma più scritta sì ovviamente ma tra le forme scritte la meno come dire strutturata in se stessa diventa più chiaro se dico l'esempio i testi più antichi dell'attuale nuovo testamento cantonico sono le lettere autentiche di Paolo Apostolo lettere che sono proprio in larga misura lettere cioè uno che comunica di nuovo a altri uno scritto ma quello scritto lì quando quando tu fai la lettera dici qualcosa sì io lo scrivo perché non posso parlarvi è una forma di comunicazione a distanza sostitutiva dell'incontro che presuppone in questo caso naturalmente ma anche in molti altri casi un incontro precedente io posso naturalmente scrivere una lettera a una persona ignota ma insomma tenetelo conto allora gli strati più antichi scritti che si sono pervenuti del nuovo testamento sono forme di comunicazione a comunità già costituite non in virtù dello scritto la predicazione appunto è una predicazione di tipo orale tecnicamente si dice il kerigma che è appunto una parola sostantiva che deriva dal verbo greco che vuol dire predicare che lui so che vuol dire predicare noi abbiamo anche qui abbiamo il kerigma cioè l'annuncio originale no noi abbiamo la memoria dell'annuncio originale ma abbiamo vari tipi di memoria l'ho detto adesso però non possiamo articolarli tutti e diamo una esemplificazione diamo un'esemplificazione confrontando un'espressione che dà l'espressione l'espressione che dà inizio al Vangelo di Marco con una espressione perché ce ne sono altri equivalenti che troviamo in Paolo in una lettera di Paolo ma ce ne sono in altre lettere se sono espressioni equivalenti in questo caso allora il Vangelo di Marco che è normalmente considerato il Vangelo più antico adesso da due secoli a questa parte è il Vangelo più antico considerato normalmente c'è qualcuno che ancora fa delle obiezioni ma normalmente è il Vangelo più antico Vangelo inteso nella forma che ha dal secondo secolo poi cioè memoria apostolica nel senso che ha un riferimento a quelle origini lì riferimento non vuol dire che è storicamente ma fa quel riferimento alle memorie originali che ha assunto una forma scritta particolare poi torneremo qual è questa forma scritta comunque l'inizio del Vangelo di Marco così dice così inizio del Vangelo di Gesù Cristo non voglio adesso datare questa espressione perché ci interessa più dal punto di vista concettuale inizio proprio è quella parola fatidica che troviamo anche altrove nel Nuovo Testamento e anche nella traduzione greca dell'Antico è la parola archè non in archè dicendolo in principio ma principio inizio già questa questione pone una faccenda anche questa assolutamente peculiare originaria originaria nel senso originale che ha poche somiglianze io ho usato una parola greca ma le memorie di Gesù trasmettono quanto Gesù ha detto e fatto in una lingua che non è quella di Gesù noi trasmettiamo l'insegnamento di Gesù e i fatti di Gesù in una lingua che non è quella di Gesù cosa assolutamente inconcepibile in altre tradizioni facciamo di nuovo un esempio Muhammad quel che riguarda l'esame questo non sarebbe assolutamente pensabile che una traduzione possa trasmettere una fedeltà va bene e quindi abbiamo anche la parola Vangelo che è la parola greca inizio del Vangelo di Gesù Cristo cosa vuol dire beh adesso sono cose filologicamente molto più complicate ma stringendo il senso non credo di tradirlo sappiamo che non vuol dire libro perché per quanto sia possiamo post datare fino a un certo punto insomma marco comunque non siamo alla fine del secondo secolo quindi non vuol dire inizio del libro una prefazione introduzione è un libro quindi non è il Vangelo come libro lasciamolo ancora lì la parola Vangelo e pensiamo a l'altro termine di riferimento cioè Gesù Cristo Vangelo di Gesù Cristo come ci insegna la grammatica questo sarebbe un genitivo ma questo genitivo è di che tipo è? I genitivi possono essere di due tipi o oggettivo o soggettivo no? soggettivo vuol dire che si riferisce il quaderno di Mario allora vuol dire questo è una cosa da scuola ma scusatemi fammi capire vuol dire che questo è un genitivo soggettivo cioè mi riferisco al quaderno che è proprietà di Mario allora questo qua è genitivo soggettivo cioè inizia a descrivere l'annuncio compiuto da Gesù se noi poi allunghiamo immediatamente l'altra riga che posso fare soltanto come un'allusione subito dopo siamo a Marco 1 1 poi andiamo a Marco 1 2 dice come è scritto nel libro del profeta Isaia secondo le scritture allora Gesù certo annuncia ma quell'archè quell'imprincipio non è un principio assoluto perché questo è un dato importante proprio in tutta la storia cristiana naturalmente diventerà importante la predicazione di Gesù ha bisogno di qualcosa prima quel secondo le scritture è qualcosa prima non è un punto di partenza assoluto perché appunto è l'inizio della predicazione di Gesù dell'Evangelo di Gesù e subito dopo dice come è scritto il profeta e introduce Giovanni Battista se non seguiremo questa linea ma è importante sottolineare questo qui non c'è l'espressione tecnica secondo le scritture che se altrove troveremo oltre che la crepa che è ben detto nel credo che c'è un riferimento a qualcosa di scritto che non è l'Evangelo ma c'è quindi non è un principio assoluto presuppone qualcosa prima ora io vi ho detto che mettiamo in confronto questo inizio del Vangelo di Marco con un'espressione che troviamo in Paolo ma adesso questo la cito dalla letta prima letta di Colinzi 9-12 ma ci sono altre espressioni in Paolo assolutamente equivalenti qui dice qui ma tutto sopportiamo per non mettere ostacolo al Vangelo di Cristo questa è l'espressione ma troviamo Vangelo di Gesù Cristo in Paolo quando troviamo questa espressione noi siamo di fronte di nuovo a un genitivo ma in questo caso è un genitivo oggettivo cioè non è il soggetto che parla ma è il Vangelo che parla cioè mi preoccupo di te non so faccio un esempio di te di noi di te è l'oggetto quindi è il buon annuncio di Gesù Cristo allora la parola Vangelo abbiamo detto che è una parola greca si trovano espressioni nella versione greca dell'Antico Testamento 70 che è naturalmente precedente al primo secolo qua e là la parola Vangelo soprattutto in passi di Isaia non a caso 40 che ha anche un significato teologico però è anche vero che è una parola di uso vario nel mondo greco ellenistico e in particolare proprio a cavallo tra l'era precedente e l'era successiva l'era volgare o l'anno precedente e l'era volgare questa espressione nell'epoca augustea per esempio in questa espressione abbiamo anche testimonianze nel senso proprio qui in questo caso anche testimonianze scritte era l'annuncio di qualcosa che era relativo non alla divinità in sé quanto alla divinità rappresentata da Augusto specialmente per l'introduzione del calendario giuliano troviamo che questo calendario doveva essere annunciato e questo annuncio o al compleanno dell'imperatura doveva essere annunciato e questo è un annuncio buono perché comincia una nuova era quando Paolo o altri usavano questa parola sapevano che i loro ascoltatori avevano più o meno naturalmente se non possiamo dire questa ecco cioè comincia qualcosa di diverso ma non perché posso mostrare una realtà oggettiva che avviene nel mondo ma perché la comunico cosa vuol dire notizia notizia vuol dire che è una realtà comunicata senza della quale io non so che quella realtà sia avvenuta è avvenimento quel fatto diciamo per essere un po' più vittima quel fatto sia avvenuto se io ho una constatazione non ho una notizia una notizia è una forma di comunicazione che mi rende partecipe a quello a cui non sono stato presente tant'è vero che ci sono le fake news perché appunto può essere una notizia non buona ma anche falsa ingannevole allora quando dico la buona notizia dell'Evangelo c'è questa idea per genitivo oggettivo di comunicare una realtà che è fondamentale ma che non è appresa se non è comunicata non possiamo allungarsi ma nell'età di corinzi aveva cominciato a dire è piaciuto Dio convertire il mondo diciamo così salvare il mondo ma insomma è più articolato con la stoltezza della predicazione della croce parla anche ma stoltezza della predicazione vuol dire un evento che è considerato fondamentale per tutta la realtà sarebbe sostanzialmente vano se non è comunicato ma la comunicazione è sempre legata a uno spazio e tempo limitati pensate allora non c'erano i mezzi di comunicazione bisogna andare parlare ma chi come qui qui abbiamo anche di là altre sale ma comunque è limitato insomma molto meno delle sardine insomma c'è uno spazio limitato cosa cos'erano le comunità primitive insomma scusate poi mi riconduco alla serietà la comunità primitive e i credenti in Gesù cristiano più simili a questa sala qui che alla sardine piccoli gruppi che hanno raggiunto da questo tipo di comunicazione che poi dice che è un messaggio che ha un valore enorme anzi risolutivo assoluto ma non è il mezzo di comunicazione perché ecco la stoltezza della predicazione questo è due parole veramente due e la logica di Paolo ma torniamo a invece al Vangelo nel senso che abbiamo detto dal secondo secolo in poi quindi il Vangelo di Gesù cioè il Vangelo annunciato da Gesù allora anche di questo noi sappiamo soltanto attraverso comunicazioni di tipo scritto molto semplificatamente noi abbiamo tre modelli di Vangelo un modello è brutale quello che dico ma insomma un modello che raccoglie come documento scritto Vangelo come documento scritto abbiamo tre modelli un modello che raccoglie soprattutto i detti di Gesù è qualche fatto questo è un Vangelo che per esempio abbiamo nel Vangelo di Tommaso attualmente molto valutato anche dal punto di vista storico la datazione si discute ma molto valutato è un insieme soltanto di centoquattordici detti cioè non c'è un contenuto un'articolazione narrativa non c'è una biografia poi abbiamo dei Vangeli che parlano solo della passione cioè quello che è il germe di quello che diventerà il dogma cioè morì fu sepolto quello che importa quello che ha predicato per esempio il Vangelo di Pietro poi abbiamo i Vangeli il modello dei Vangeli più conosciuti perché sono quelli che corrispondono ai canonici non solo sono quelli però ci sono anche i canonici che si conformano a questo modello che diciamo è un modello per così dire misto cioè c'è una parte che racconta la predicazione i fatti e i detti di Gesù e poi una parte che racconta la passione morte e risurrezione di Gesù cioè ha un andamento che potremmo dire biografico attualmente si valuta molto l'aspetto biografico anche in base a analogie e differenze con le biografie classiche c'è un aspetto biografico una biografia che per esempio per riferirmi agli esempi più noti cioè quelli canonici ha delle amplificazioni in Matteo e Luca che mettono il Vangelo dell'infanzia Marco non ce l'ha ma insomma anche se c'è il Vangelo dell'infanzia non è una biografia ordinata che poi dal Vangelo dell'infanzia si salta all'inizio della predicazione non c'è l'idea della formazione non c'è non è un romanzo di formazione comunque ha un assetto biografico in questo senso si può dire lo si può dire non è allora questo è il genere letterario Vangelo che racconta il Vangelo di Gesù in senso quello annunciato con fatti con detti e fatti da Gesù è importante appunto questo passaggio entrerò poi nell'ultima parte a dire dei contenuti che parliamo appunto anche un poco del regno che è uno dei termini ma prima voglio fare una considerazione diciamo a ampio respiro ma su un punto particolare non è una contraddizione ampio respiro perché abbalassa molto tempo il punto è particolare però cioè il Vangelo di Gesù inteso in questo ultimo senso per esempio i tre Vangeli sinostici tanto per fare l'esempio cioè Matteo Marco Luca sono dotati di un realismo letterario nel senso che è un genere letterario che vogliono raccontare appunto una biografia un aspetto particolare di una biografia quindi una vita una vita senza questo modello non sarebbero nate come sotto insieme una serie di questioni compresa quella di Gesù storico questi Vangeli non sono vite di Gesù non sono racconti storici di Gesù sono memorie apostoliche nel senso che abbiamo accennato prima però avendo fatto sì che queste memorie assumessero questo aspetto narrativo hanno messo diciamo in atto un'operazione che in altri contesti culturali ha fatto sorgere il problema di Gesù storico cioè quali di queste memorie sono attendibili quali invece sono state aggiunte quali sono state manipolate quale rapporto c'è tra queste memorie e le strutture dogmatiche successive questo sostanzialmente è il ricordo di Gesù storico ma se non ci fossero stati i Vangeli come genere letterale il problema di Gesù storico non sarebbe sordo consentitemi per chiudere questa parentesi una battuta questa è proprio una battuta nessuno si è mai posto il problema dello Zeus storico cioè se fosse stato presentato come un mito fondativo per quanto mito ma fondativo nessuno si è mai posto il problema il problema è sotto per tante altre ragioni naturalmente ma anche per questo realismo letterario dei Vangeli questo è un dato molto importante allora nel realismo letterario dei Vangeli si presenta appunto questa figura che all'inizio della sua predicazione dà appunto questo Vangelo e questo Vangelo dice in parole diciamo riassuntive questo proprio all'inizio del Vangelo di Marco ma questo trova corrispondenza anche altrove convertitevi cambiate mentalità cambiate credete al Vangelo il tempo è compiuto e il regno di Dio si avvicina allora credete al Vangelo questo l'abbiamo in qualche modo già detto e possiamo riassumere molto rapidamente credete perché il Vangelo è una buona notizia vi dovete credere non potete constatare dovete credere dare fiducia quando io ricevo una notizia la prendo per buona se do credito a colui che me la comunica e siccome è colui che me la comunica appunto nel mondo dei media eccetera non si sa mai chi è allora ecco do poco credito te l'ho detto io l'espressione colloquiale allora sì posso avere fiducia però bisogna che chi creda quindi credete al Vangelo credete al buon annuncio il tempo è compiuto questo tempo è kairos allora adesso qui non è documentario quello che dico ma pensate a quello che abbiamo detto prima a proposito di Augusto cioè annuncio calendario giuliano c'è il buon annuncio di un ecco qui c'è un buon annuncio di un tempo che non è il tempo cronologico cronos ma è il tempo qualitativo questa parola molto complessa da spiegare cose questo kairos comunque è un tempo che si è compiuto cioè è un momento di decisione pulpa è un momento di decisione il tempo è compito perché il regno di Dio si è avvicinato allora è questo l'annuncio della diciamo l'arco che vuole presentare il Vangelo come Vangelo forma scritta di memorie su Gesù beh questo è l'inizio ma anche nei Vangeli misti non abbiamo soltanto questo inizio e la fine ma abbiamo il raccordo tra l'inizio e la fine allora l'inizio è questo qua cioè l'annuncio questo annuncio è l'annuncio della prossimità del regno quali sono le forme diciamo che garantiscono per così dire che il regno si sta avvicinando che danno motivo di credere che il regno si sta avvicinando sì certo l'annuncio stesso ma non solo l'annuncio stesso abbiamo sempre detto e lo dicono anche adesso con parole tecniche e studiosi non solo soltanto detti ma sono detti e fatti i fatti di Gesù presentati all'inizio del Vangelo sono sostanzialmente quelli di essere un terapeuta e un esorcista di guarire le malattie e di scacciare i demoni il problema dei demoni è molto complesso naturalmente perché questo non è lo scacciare i demoni non è secondo le scritture non abbiamo delle precedenze però abbiamo delle precedenze nell'ambiente non è c'erano molti esorcisti ma non c'è nella Bibbia ebraica questa roba qua salvo testi che non sono nella Bibbia ebraica ma cosiddetti deutero canoce ma adesso andiamo nel tecnico cioè c'è qualcosa che trattiene la venuta del regno e con cui mi devo confrontare è che dico si sta avvicinando perché sto ottenendo vittoria su queste realtà opposte al regno e queste realtà opposte al regno sono dico in questi termini la malattia è il demonio allora è il perdono dei peccati cioè non è il demonio dei peccati e quindi accanto a la terapia l'esorcismo c'è il perdone dei peccati la condivisione della mensa dei peccatori se voi pensate diciamo a un esito lontanissimo di tutta questa dinamica che non è mai stata perduta anche se non è mai stata affermata in modo diretto e arrivate a lo dico come un inciso a Papa Francesco Papa Francesco dice la predificazione della misericordia è un ricordo lontanissimo di questa struttura qua ma non è più Cairos è diciamo un tempo cronologico come intanto ci sono dei ricordi rituali che parlano della misericordia insomma qualche tentativo di ricostruzione ma invece lì era un momento decisivo il regno e si avvicina in modo definitivo diciamo così perché guarisco scaccio i demoni perdono i peccati condivido la mensa con i peccatori allora ho detto e vi concludo anche se molte altre cose avrei da dire ma nel senso di dire non c'è soltanto l'inizio o la fine della passione ma c'è anche quello che li collega qual è quello che li collega è che ha indotto a una delle ragioni che ha indotto a creare questo Vangelo come genere letterale misto che se noi prendiamo l'annuncio da una delle due parti cioè l'annuncio di Gesù il regno che si avvicina da un lato poi l'altra parte l'annuncio di Gesù nel senso che annuncio Gesù morto e risorto e asceso al cielo o giù di lì varie forme costituito Signore che è l'annuncio non solo di Paolo noi abbiamo come li teniamo insieme abbiamo queste due polarità separate perché Paolo non interessava niente la biografia di Gesù e chi comincia a parlare le biografie di Gesù quell'altra realtà come si dice tecnicamente post pasquale è posta dopo ma perché ma perché l'annuncio del regno il beneficare come dice un frammento narrativo del Kerman negli atti degli apostoli dieci andò inizionando dalla Galilea alla Giudea benificando intorno perché e poi essi lo consegnarono alla morte ma come mai questo che fa del bene è messo a morte consentitemi questa espressione diretta ecco l'asse in base al quale si sviluppa il racconto dei Vangeli sinottici particolare e cioè non c'è soltanto l'annuncio del regno non c'è soltanto la liberazione della malattia ma c'è anche il rifiuto il rifiuto di accogliere l'annuncio e allora i Vangeli raccontano soltanto coloro che accolgono ma anche coloro che respingono e in base a questa struttura cominciano a narrare delle preannunce della passione eccetera eccetera cioè diciamolo pure io penso che si possa dire così ed è una caratteristica importantissima del genere letterale Vangelo raccontano anche il fallimento di Gesù e questo ha creato tanti problemi anche nell'interpretazione del Gesù storico quando diciamo così psicologizzando troppo quando si accorsi di dover morire allora appunto il Vangelo come biografia narrata come memoria narrata come anche realismo letterario racconta questa idea che l'annuncio del regno sì ma c'è anche il rifiuto e questo rifiuto condurrà la morte e la morte naturalmente sarà poi il modo con la risurrezione di inglobare narrativamente il kerigma io avrei concluso però avrei un cenno però dico solo un cenno che non sviluppo dico quello che tra le infinite cose che non io delle molte cose del fatto che potrei aggiungere una almeno avrei dovuto dirla dato il titolo generale del ciclo e cioè fondatori delle religioni Gesù ha fondato il cristianesimo c'è un famoso libro c'è un famoso biblista che Dodd che è stato a prima età del novecento molto importante il quale ha scritto in tarda età proprio il fondatore del cristianesimo ma certamente noi diciamo no è chiaro che il cristianesimo è questo può trovare diciamo un accordo abbastanza comune anche dentro le ortodossie molto più delicato sarebbe porre una questione anche all'interno delle ortodossie se Gesù ha fondato la chiesa perché lì molti risponderebbero di sì e altri no e il famoso frammento del tuo es Petrus insomma ha fino a oggi un suo peso non indifferente ma di questo non parlo a meno che voi non me lo chiediate successivamente grazie